Avrei potuto amarti in modo più piacevole per te, infatuarmi della tua superficie e restar là. È quello che tu hai voluto a lungo. Ebbene no, io sono andato al fondo. Non ho ammirato quello che tu mostravi, che tutti potevano vedere, che stupiva il pubblico. Io sono andato al di là e ho scoperto dei tesori. Un uomo che tu avessi sedotto e dominato non si goderebbe come me il tuo cuore in ogni suo recesso. Quello che provo per te non è un frutto d'estate dalla buccia liscia, che cade dal ramo al minimo soffio e sparge sull'erba il suo succo vermiglio. Ha a che fare con il tronco, con la scorza dura come una noce di cocco o guarnita di spine come i fichi d'India. Fa male alle dita, ma contiene del latte.